Io sono Michele Pratelli, lavoro da 25 anni in Idrofoglia. Idrofoglia è una ditta che è da 40 anni, leader nella produzione di macchine simmoventi per l'irrigazione e gruppi motocuompa. Eravamo alla ricerca di un partner che potesse fornirci dei motori con alte prestazioni, tecnologicamente all'avanguardia, soprattutto anche per quello che riguarda le normative sulle emissioni e che avesse anche un'ottima base di assistenza in Italia e nel mondo. Abbiamo scelto FPT Industrial come partner perché era l'unica azienda sul mercato il cui prodotto rispettasse pieno tutti quelli che erano i bisogni della nostra azienda. E noi abbiamo bisogno di affidabilità, prodotti tecnologicamente avanzati e un ottimo servizio di after sales. Noi collaboriamo con FPT da più o meno 30 anni. La collaborazione è continuata perché FPT ci ha garantito nel corso degli anni, attraverso un continuo sviluppo dei suoi prodotti, sempre appunto dei prodotti tecnologicamente avanzati e ideali per quello che è il nostro segmento di mercato. La collaborazione con FPT è stata molto fruttuosa nel corso di questi anni. Considerate che Idrofoglia fino a 10-15 anni fa poteva produrre un 200-300 gruppi motopompa all'anno e grazie appunto alla collaborazione con FPT siamo arrivati ad oggi a produrre 1.400 gruppi motopompa. FPT è un po' il cuore del nostro prodotto ed è quindi il pezzo principe attorno al quale viene poi allestito tutto il nostro gruppo motopompa. Per me FPT è innovazione, affidabilità e soprattutto efficienza. E l'efficienza grazie alla quale Idrofoglia ha potuto sviluppare nel corso di questi 30 anni di collaborazione il suo business nel miglior modo possibile. E l'efficienza grazie a tutti.